buongiorno ok buona domenica anche a te eccolo eccolo senti mia con la mamma e viene pure lui buongiorno Non, non, non è presente, non è presente, non è presente. la pappa guarda guarda con la pappetta stiamo a preparamola dividiamo ora la pappa buti incontro un po' di un po' di un po' di più Grazie a tutti Ciao belli